Per la testimone della sposa i Pip urrà! Urrà! No, non ci provano! Discorso, 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 discorso! Non ci posso credere! Dave, c'è qui la figlia della brunetta dei ricchi e poveri! Brunetta dei ricchi e poveri! Mi canti! Che confusione! Sarà perché ti amo! Comunque è vero, è vero, è vero, è vero! Lei voleva rimanere in incognita, non ce l'ha fatta! Comunque mi saluti la mamma? Ciao mamma! Ma la saluto davvero! Dave, ciao! Questo è un tavolo veramente meraviglioso perché qui siamo al comitato di Ronato e stiamo mangiando la grande! Ci vediamo dopo per ballare? Dai, va bene, ci vediamo dopo con tutta fiducia! Questa ragazza non abbiamo chiesto il nome però, il nome? Valentina! Valentina, abbiamo conosciuto lei che è la figlia della brunetta dei ricchi e poveri tu Valentina ti sposi, vero? Sì, 5 luglio! 5 luglio, mannaggia! Simone, la brunetta dei ricchi e poveri si chiama Valentina e la mia te Simone! Mi raccomando, non regalarle poco! Regalarle la crociera sul Mella che è un bellissimo viaggio molto romantico! Ciao! 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 Ciao!